ok idemo vediamo se si muota idemo un'altra giunzo poi lascio ride riduce facciamo i subota i utro vjerovatno dosta ljudi idem na tržnicu tu imamo jednu fini pekaru malo jeli e u prapani držnica ovdje na trgu obziramo da nije daleko španija tu je veliko tehna učinjamo ma nascchè non ma 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 oh Sì. 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 Adesso provo a tutti i venti. Sì. 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 Grazie.